e i piedi del peschione provo un po a scendere qui qui ci vuole massima precauzione vedi eh se chi c'è quando i ragazzi della classe mese li ricordano? beh ci dobbiamo sottomare qui guardate quanto è bello eh? che peschione un masso gigante ecco la parte sotto vedi? altri pezzi di pietro con il terremoto sono andati sotto abbondiamoci qui e là ci sono altre pietre qui ci sono osse osse delle osse qua è rifugio ecco qui è l'osso ci sta là da danno dell'auto ecco perché c'è l'osso fanno scendere qui l'acqua vede pure una maglia e chi sa che ce l'ha portato qualche animale qualcuno è rinvolvendo forse è fallito cattino prima di me anni fa vedete? guardate i miei stelle secchi c'è una roccia qua è stato il terremoto prima era molto diverso dal terremoto del 13 gennaio nel terremoto del 13 gennaio